Stagione turistica 2016, Mario Leonessa, com'è andata? La stagione è andata abbastanza bene, anzi non bene. Sì, c'è stato un incremento un po' di tutte le componenti italiane, inglese, tedesco e di tantissime altre qualità di clientela. Però, voglio dire, è andata bene, ma non per merito nostro, ma per demerito delle altre situazioni che si sono andate a verificare nel Nord Africa, in Egitto, in Turchia, eccetera. Per cui dovremmo vedere di consolidare e di non campare sugli allori e cercare di fare qualche cosa di migliorativo affinché consolidiamo questo tipo di clientela nuovo che si è presentata da noi. La qualità del turista, qualcuno dice come i commercianti, tanta gente però con capacità di spesa ridotta. Purtroppo nei periodi di bassa stagione, come lei ben sa, c'è un tipo di clientela di pensionati, eccetera, eccetera. Per cui essendo venuto molto meno quello che è la componente tedesca che in primavera e in autunno ci riempiva abbastanza bene la situazione e adesso comunque questo qua non hanno la capacità di spesa per cui questa è la situazione. Che tipo di territorio offriamo al turista in termini anche e soprattutto di servizi? In questo momento siamo un po', come diciamo già da tanto tempo, bisognerebbe guardare un attimino quella che è la situazione dei trasporti marittimi, dei trasporti terrestri che lasciano molto a desiderare, dei discorsi dei tassi, il traffico che è diventato una cosa insopportabile e un po' di sistemazione come fatto generale andrebbe fatta. E poi principalmente dobbiamo vedere il discorso del marketing territoriale, dell'isola intera. E non è utile che andiamo a venderci Ischia, Casamiccio, Laccameno, Forio. No, dobbiamo vendere l'isola d'Ischia che comunque vale per tutti quanti. Grazie a tutti.